Ciao, benvenuti. So che comunque è difficile di prima mattina. Scusate, doppio microfono, doppio suono. Volevo iniziare questo talk con una storia. Si dice che un giornalista andò ad intervistare Joe Di Maggio, uno dei più famosi giocatori di baseball della storia, a casa sua. Ad un certo punto dell'intervista gli chiese cosa si prova ad essere un talento naturale. A quel punto Di Maggio si alzò, andò giù in cantina, lo condusse lì, prese una mazza da baseball e nella penombra cominciò a provare alcune battute, chiamando i vari lanci corrispondenti. Slider, e il lancio corrispondente. Cutter e il lancio corrispondente, e così via. Dopo questo allenamento che durò più o meno mezz'ora, prese un pezzo di gesso e tracciò un segno vicino al muro. E quando accese la luce, il giornalista vide la stanza tapezzata di questi segni. Si racconta che risalendo Di Maggio disse, guardando negli occhi il giornalista, il talento non c'entra nulla. Sono Giustino Borzacchiello e oggi vi racconterò la mia esperienza su come ho imparato a migliorare o comunque ad imparare. Io sono un team leader a Motorkay, a proposito sono qui fuori, se volete andate a fare una chiacchierata con i miei colleghi. E sui social mi potete trovare come jobstuff un po' ovunque e su giustino.blog dove ogni tanto scrivo. Questo QR code è per un sondaggio, se volete farlo così potete esprimere il vostro giudizio su questo talk. Siate clementi per favore. Allora, volevo fare due premesse. Anche se può sembrare così, questo non è un talk motivazionale. Probabilmente non potrò fare a meno che alcuni di voi escono fuori da questa stanza un po' più motivati, ma non è questo il mio scopo. Il mio scopo è quello di darvi un piano pratico che potete attuare fin da domani per migliorare in una qualsiasi abilità che voi vogliate. La seconda premessa è che se pensate di non poter cambiare, forse questo non è il talk per voi. Se per esempio vi siete mai detti io la matematica non la capisco, punto, io sono fatto così, punto. Ok, non è proprio questo il mood giusto. Ricordate che il talento non è un dono. Se una sola cosa vi volete portare a casa da oggi, il talento non è un dono, ma è qualcosa che si coltiva giorno dopo giorno. Piccole azioni ripetute nel tempo ci trasformano ed è davvero così. Il talk sarà diviso più o meno in queste tre fasi. Prima analizzeremo le motivazioni, poi un concetto fondamentale che è quello di pratica deliberata e poi vedremo il nostro piano. Allora la prima domanda che mi faccio quando inizio qualcosa di nuovo è perché? Perché dovrei farlo? Perché dovrei investire nel tempo in questa cosa? Dopotutto Netflix tira fuori serie ogni settimana, potrei stare guardando quelle. La risposta è che spesso ci sono delle cause esterne che ci obbligano a migliorare o comunque a fare qualcosa, come per esempio mangiare. No, scherzi a parte. La competitività è sicuramente uno dei motivi principali per motivarci a migliorare. Ovviamente il mercato premia delle abilità che sono difficili da ottenere, quindi se avete lavorato poco per ottenere le vostre abilità, è solamente ovvio che abbiate più competizione. Quindi migliorare può essere un modo per avere lavori più stimolanti o avere delle soddisfazioni economiche maggiori. Questo potrebbe essere un buon motivo. Altrimenti la passione. Vi piace qualcosa? Io ho iniziato a studiare fotografia da poco, mi piace, anche se è ancora un po' complicato, ma... e volete migliorare? Semplice. E a questo punto parlando di motivazioni bisogna anche chiedersi e vi faccio questa domanda, quindi non ho una risposta. L'atto di migliorarsi è lavoro oppure no? Spesso mi capita di parlare con persone che dicono, ah no, io al di fuori del mio lavoro non faccio nulla. bravi. Questo capita molto spesso più con i dipendenti che con i freelancers, che sanno che l'apprendimento continuo è un asset forte che possono vendere ai loro clienti. Però se diciamo volete migliorare fatevi questa domanda e capite come la pensate riguardo a questo argomento. dobbiamo capire perché c'è una differenza tra le persone che sono i top performer di un dato ambito e tutti gli altri. Se dovessi dire solo una cosa che differenzia queste persone dagli altri è un diverso rapporto con la pratica. Questo qui è Antonio, è un mio amico, mio collega di università. Antonio pratica lo iaido che è un'arte marziale, che è l'arte dell'estrazione della spada e quest'arte marziale prevede tutta una serie di forme che si chiamano katà che portano alla perfetta forma finale e questi katà vengono ripetuti ancora e ancora per migliorarsi in quest'arte. E se ci pensate quasi in tutte le altre discipline c'è la pratica, la pratica è presente. Nella musica dove i musicisti praticano e praticano i pezzi tecnici, nello sport se avete fatto qualsiasi sport sapete che l'allenamento è la preparazione alla partita. Forse il viaggio quindi l'allenamento è più importante della partita stessa. E anche gli scrittori che scrivono e riscrivono i loro pezzi. Riflettendoci, noi lavoratori digitali abbiamo un poco rapporto con la pratica. La facciamo spesso sul lavoro e quindi anche la maggior parte dei nostri errori avviene sul lavoro. E questo è un problema perché ovviamente se ci sono sul piatto dei soldi o comunque la reputazione con un cliente si è meno inclini a sbagliare, meno inclini a prendere delle cantonate e quindi restiamo sempre di più sul sicuro. Un concetto fondamentale quindi che magari le altre discipline hanno già e che noi siamo un po' manchevoli, di cui noi siamo un po' manchevoli è la pratica deliberata. Che cos'è? Non è la semplice pratica perché io guido tutti i giorni, non so magari anche voi, ma non sono certo un pilota professionista. Quindi la pratica non può bastare. Allo stesso modo cammino tutti i giorni ma non sono un esperto di parkour. Qual è la differenza? Cosa cambia? E la pratica deliberata che è una pratica effettuata appena al punto cruciale, un po' al di sopra delle vostre possibilità, al di sotto di quella frustrazione in cui non riuscite mai a raggiungere l'obiettivo, ma al di sopra di poter raggiungere sempre e comunque i vostri obiettivi. Quindi al di fuori della zona di comfort. E questa è una cosa difficile. Quando ho imparato a guidare ero attentissimo. Vedevo ogni singolo passo, premi la frizione, premi l'acceleratura, giusto lo specchietto, stai attento alle varie auto che arrivano. In quel momento, se non vi è mai capitato di imparare a guidare, è in quel momento che fate pratica profonda. Quando siete attenti ad ogni gesto che fate. Ma questo, diciamo, modo di fare pratica, ovviamente diciamo ci tira via un sacco di energie, bisogna stare molto attenti. Ed è lì che scatta l'altra cosa che differenzia i top performance, che è la grinta, la motivazione. Proprio la forza fisica di poter essere lì con la pioggia, con il sole, sempre e comunque tentando di analizzare, di migliorare ogni singola abilità e sempre andare oltre. Siamo giunti quindi a questo punto in cui sappiamo che se vogliamo migliorare in qualsiasi cosa che vogliamo fare, dobbiamo avere queste due cose. Una motivazione forte, perché vi servirà alla fine, e il concetto di avere una pratica deliberata, quindi di analizzarci. Ma di fatto che cosa dobbiamo fare? La prima cosa che vi serve è un piano. Ok, perdonate la battutaccia. Volevo essere sicuro che eravate con me. La prima cosa che vi serve è un piano. Quando siamo a scuola o se siete andati all'università, i professori ci fornivano un piano del corso con i vari argomenti in ordine crescente di difficoltà. Ecco, se volete imparare qualcosa di nuovo, sedetevi, non cominciate, sedetevi, studiate prima l'argomento da un punto molto da lontano, analizzate tutte le parole che si ripetono, tutti i concetti che si ripetono e metteteli giù. Fatevi una lista, una lista di cose da imparare di quell'argomento. In questo modo, quando vi troverete a far pratica, quando vi troverete a fare questi esercizi, avrete una lista di cose da cui attingere. Non dovrete, diciamo, progettare in quel momento, dovrete soltanto fare pratica. Questa è una cosa che ho provato a fare io, diciamo, imparando la fotografia. Mi sono segnato vari concetti e varie cose che volevo approfondire. Ovviamente sono macro aree e mi introduce anche al secondo concetto che vi voglio spiegare. Comprate un quaderno o, se siete più digitali, un tablet o comunque lo smartphone può andar bene. Dovete catturare le idee che vi vengono, dovete essere immersi nell'argomento e cercare di sviscerarlo. Annotate tutto, non vi preoccupate. Più idee annoterete, più vi verranno idee. È una cosa automatica. Mentre facevo ricerche per questo talk, ho trovato questo disegno. Questo qui è un disegno che Tiger Woods, un famoso golfista, ha fatto a cinque anni e segna le varie traiettorie dei vari ferri del golf. Quindi non è mai troppo presto per comprare un quaderno, né troppo tardi. Potete farlo anche voi. Arriviamo quindi a un altro concetto fondamentale della pratica deliberata. Ogni volta che dovete imparare qualcosa di nuovo, guardatelo nella sua interezza. Poi scomponetelo nelle singole parti e lavorate su ognuna di essa, perfezionandole, mano a mano, e poi ne rimettete insieme, ritornando quindi all'intero argomento. Per preparare questa presentazione ho fatto così. Ho preparato l'introduzione, quindi non sapete quante volte mia moglie ha dovuto sentire la storia di Gio di Maggio a un certo punto. Mi ha anche chiesto. Basta. Dopodiché ho fatto la seconda parte, l'ho migliorata e poi le ho messe insieme. Se singolarmente funzionavano bene, insieme c'era qualcosa che non andava e quindi ho limato ancora, fino ad arrivare a tutta la presentazione. Quindi, ogni volta che trovate qualcosa di nuovo che volete imparare, dividetelo nelle sue parti fondamentali. Poi le studiate, migliorate e rimettete insieme. Sbagliate. Dovete sbagliare, dovete prendere delle cantonate. Se non siete goffi quando imparate, se non vi buttate quando c'è la rete, non ha senso imparare. E non imparerete, resterete sempre, arrivate a un certo plateau, non andrete più avanti, perché è solamente poi col criterio e con lo sforzo che riuscirete ad andare avanti. Quindi, non abbiate paura di sbagliare. Io negli anni ho fatto un sacco di challenges, come si dice. Ho provato a suonare il pianoforte ogni giorno, ho provato a leggere 40 libri, ho sbagliato in tantissimi modi. Però, da ogni singolo fallimento mi sono portato qualcosa. Ho imparato qualcosa su me stesso, per esempio leggere 52 libri è difficile in un anno. o comunque che studiare il pianoforte è un po' più complicato da solo. Ci vuole un maestro. Quindi, prendete cantonate quando imparate qualcosa. Un'altra tecnica, una volta che avete studiato un argomento e volete, diciamo, migliorare il modo in cui lo conoscete, provate ad insegnare. Non c'è bisogno di insegnare a qualcun altro, potete anche insegnare a voi stessi. C'è una tecnica di questa persona qui, Richard Feynman, che è un famoso professore di fisica e un esperto di divulgazione, che si chiama Feynman Technique. È molto semplice, diciamo, ha un nome blasonato, ma è molto semplice. Prendete un argomento, scrivete il titolo in alto nella pagina e poi provate a scrivere la spiegazione, cercando di semplificare. Nel momento in cui arrivate a delle difficoltà, quindi fate riferimento al materiale, libro, blog post, quello che sia, e provate poi a limare ancora meglio la spiegazione. Aggiungete tanti esempi. Fate in modo di eliminare tutto il linguaggio tecnico. Una persona che non ne sa nulla deve essere in grado di capire da questa spiegazione di che cosa si tratta. E se lo faceva Feynman con la fisica quanto meccanica, credo che il CSS Box Model possa essere una cosa un po' più facile da spiegare. O qualsiasi altro argomento, per dire. L'ultimo consiglio che vi do in questo ambito è rubate. Prima di noi ci sono stati tanti esperti nel nostro campo e ognuno di essi ha lasciato, diciamo, un'eredità. Questa eredità è preziosa. Dovete guardare le cose che hanno fatto, quelli che sono venuti, prima di voi. Se vi piace la fotografia, guardate le fotografie di grandi del passato. Se vi piace il codice, andate su GitHub e leggete il codice. Quello buono e quello cattivo, perché è importante anche capire la differenza. Anche per il design vale la stessa cosa. E un passo fondamentale è cercare di copiare. L'atto di copiare ci mette nelle condizioni di, diciamo, capire il processo mentale di questa persona e quindi di riproporlo. Io spesso, diciamo, copio del codice da GitHub e provo a riscriverlo senza guardare. E poi guardo che cosa è mancato. In questo modo cerco di capire perché ogni pezzo è fondamentale. E credo che questo approccio si possa applicare un po' a qualsiasi cosa, in genere. O andate su Wikipedia. Spesso c'è la lista di grandi di questo settore. La lista dei grandi designer, la lista dei grandi computer scientists. E leggetevi la storia. Che cosa ha fatto questa persona? Chi ha inventato il mouse, lo sapete? Chi è Alan Key? Potete andare a studiare queste persone. A questo punto abbiamo visto un po' che cos'è la pratica deliberata e come fare pratica con criterio. Vediamo come è fatta una sessione di pratica perfetta. Innanzitutto preferite la qualità al tempo. Meglio fare n ripetizioni fatte bene piuttosto che stare lì dieci minuti. Programmo per dieci minuti. Non ha senso. Cercate di fissare uno scopo. Che ne so. Provo a scrivere questo codice senza guardare la documentazione. Stupido, sì. Provo a fare questo disegno senza dover usare la griglia. Non lo so. Non sono un designer, come potete sapere. Però provate a ripetere una cosa fatta bene piuttosto che dedicare solo uno slot di tempo. Meglio poco e spesso. Piuttosto che fare palestra un'ora alla settimana preferite dieci minuti al giorno. Questo perché? Se ci sono degli scienziati perdonatemi perché la pratica nutre le connessioni che ci sono nel nostro cervello e più stimoli gli diamo più queste connessioni crescono e più noi siamo in grado di praticare di praticare meglio. Quindi meglio poco e spesso. Anche dieci minuti bastano. C'è la storia di questo medico che aveva pochissimo tempo e insieme al suo insegnante di musica erano riusciti a spezzare questo brano in pezzi da due minuti l'uno. Lui praticava due minuti e poi si fermava. Alla fine del mese era riuscito a fare il brano perfettamente. Quindi funziona. E poi preferite le attività che vi danno un feedback rapido. A scuola eravamo abituati ad avere i risultati in un compito o di un esame due settimane dopo. Secondo me è una cosa veramente sbagliata perché è quando gli errori sono freschi che noi riusciamo a riprodurre il nostro processo mentale e capire come risolverli. Dopo due settimane è tutto andato. Quindi se siete programmatori usate le console che vi sparano subito gli errori. Se siete designer cercate la critica subito. Insomma cercate di integrare il feedback nelle vostre attività. È una cosa fondamentale. Bene. Siamo giunti alla fine di questo percorso e quello che c'è da domandarsi diciamo all'inizio abbiamo iniziato domandandoci perché farlo. E adesso ci domandiamo ma fare solo pratica basta per migliorarci? In verità nessuno può darvi una ricetta segreta per nessun argomento al mondo. Quindi diffidate da chi vi vende le verità fatte e buone. ognuno ha bisogno di metterci del suo del proprio per migliorare e raggiungere quella che è per se stesso l'eccellenza. E poi dipende anche un po' dal contesto in cui operate. Se siete in un contesto molto competitivo è molto più probabile che i vostri pari facciano più o meno pratica deliberata. Quindi nello sport sicuramente ci sono persone che dedicano la propria vita ad allenarsi e migliorare. e in quel punto lì diciamo anche la più piccola differenza genetica quello che possiamo chiamare il dono, il talento può fare la differenza perché siamo ad altissimi livelli. In altri contesti come può essere anche il nostro lavoro è meno probabile. Diciamo da quella che è la mia esperienza meno persone si mettono lì e si dedicano al miglioramento della propria arte e all'esame critico di quello che fanno. Quindi secondo me sì se siete dei lavoratori digitali provate ad applicare queste regole provate a migliorare a criticarvi ad analizzarvi ad esaminarvi ogni volta che lavorate e la pratica può bastare potrebbe bastare per diventare migliori. Grazie Domande? 5 4 3 2 1 Grazie mille Grazie 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 Grazie